Shirin e Badi, premio Nobel per la pace 2003, per aver difeso i diritti degli oppressi e i diritti delle donne nel suo paese, l'Iran. E qui in collaborazione con il Telefono Rosa, domani incontrerete tante scuole. Ha già pensato che cosa dire loro? Shirin, grazie di essere con noi oggi a Storia Italiana. La lotta contro la violenza sempre deve cominciare da casa. In Italia vengono uccise ogni anno moltissime donne per mano dei loro compagni, per mano dei loro mariti o delle persone che dovrebbero amarle. Secondo lei, l'Occidente che cosa sta sbagliando? L'errore è grande di educare nel modo sbagliato un bambino e poi in alcuni paesi, per esempio come in Iran, le leggi aiutano la violenza contro le donne. Se un uomo, un marito trova la moglie con un altro uomo nel letto, può uccidere tutti e due e non avrà nessuna conseguenza. In Iran non c'è il divorzio, c'è il ripudio. Per la donna divorziare è molto difficile, ma l'uomo può facilmente ripudiare la moglie. Poi l'uomo può avere quattro mogli. Secondo voi questo non è violenza? Assolutamente sì. Credo sia l'unico caso nel mondo, non vorrei sbagliarmi, in cui il premio Nobel è stato tassato dal governo iraniano. Non solo, hanno sequestrato tutti i possedimenti alla famiglia di Shirin, a Shirin stessa. Hanno detto che io dovevo pagare le tasse e hanno sequestrato e hanno confiscato tutti i miei averi. E infatti il regime iraniano mi faceva sapere, mi diceva, se tu smetti a parlare, ti restituiamo tutto quello che abbiamo confiscato. Dopo la prima vittoria di Ahmadinejad ci fu un via vai di spie, di spie che andavano avanti e indietro e che controllavano il suo lavoro. Chi entrava e chi usciva dal suo ufficio. Sì, infatti hanno sempre guardato con sospetto le mie attività di diritti umani. Sono stata sempre spiata e anche l'intelligence mi spiava. E una volta ho trovato una microspia dentro casa mia che registravano tutto quello che si diceva. Mio marito è stata la vittima di questo congiura. E non soltanto mio marito, anche mia sorella, che non c'entrava assolutamente con le mie attività, era stata arrestata. E un periodo è rimasta in carcere. Che cosa si può aspettare da un governo così? Ecco, poi volevo commentare con le nostre ospiti, ma volevo sentire l'altro pezzo di intervista. Pensate che hanno ricattato il marito di Shirin e Badì, lo hanno ripreso durante una scena di sesso, lo hanno ricattato e lo hanno costretto davanti alle telecamere a parlare male della moglie, a dire delle falsità nei confronti della moglie che era già premio Nobel e poi diffondere queste immagini, queste dichiarazioni in tutto il mondo. Sentite. Un giorno suo marito, camminando, le disse Tu un giorno pensavi che prima bisognava mettere la famiglia davanti a tutto e poi i diritti umani. Perché non l'hai fatto? Lei non riuscì a rispondere a quella domanda, ma rispose semplicemente che lei sarebbe andata avanti, così come ha fatto per tutta la vita. Oggi riuscirebbe a rispondere a quella domanda? Io infatti ho detto a mio marito, mi dispiace che le mie scelte hanno danneggiato la mia famiglia, mi dispiace che è successo quello che è successo. Ogni cosa ha il suo prezzo. La libertà, la democrazia pure hanno il loro prezzo. Se tu non paghi quel prezzo non arrivi mai veramente ad averli. Le sue figlie, che cosa ha insegnato loro? È felice di vedere oggi il loro futuro fuori dall'Iran? O sognerebbe per tutte quante voi un ritorno in un Iran diverso? Desidererei tanto di vedere i miei figli vivere nel proprio paese, come qualunque persona, però adesso le condizioni non sono adatte per realizzare questo desiderio. Oggi in Italia la libertà di molte donne è fondamentale per la propria indipendenza, per la propria vita e soprattutto per le proprie scelte. Ecco, che cosa si sente dire oggi a tutte le persone che sono assistite, le donne che sono assistite dal telefono rosa, e le tante donne invece che non hanno il coraggio di denunciare la propria condizione. Io mi sento di dire a queste donne di uscire fuori, di parlare con le organizzazioni come telefono rosa, perché le donne devono sapere che c'è anche un altro modo di affrontare la vita. Lei si sente ancora spiata? Ancora sono spiata e addirittura dove io lavoro, vicino all'ufficio che io avevo, hanno affittato un altro appartamento e mi spiavano dall'appartamento accanto. Sono ancora minacciata, mi hanno chiesto di stare zitta, io pagherò il prezzo e non starò mai zitta. Grazie, Shireen. Grazie. E noi dove potremo, quando potremo, daremo voce davvero al suo grande coraggio. Grazie. Grazie, infatti senza i giornalisti noi non possiamo fare niente. Grazie, Shireen e Badi. Oggi ha voluto parlare in iraniano, lei sa parlare benissimo in inglese, ma lo fa per portare avanti la tradizione del suo popolo, l'Iran. è quel popolo in cui ancora spera ad un cambiamento, ad una svolta e soprattutto ad una democrazia. Vi ricordo questo libro, Finché non saremo liberi, Iran, la mia lotta per i diritti umani. Shireen e Badi. Grazie.